Ciao a tutti, oggi vi mostro un tuning per la Nissan GTR Nismo R35 N-Attack Package su CSR Racing 2 Nel mio caso la macchina non è completamente potenziata, quindi non ha tutti i potenziali di livello 6 però ho dei potenziali di livello 6 solamente al turbo e alla presa d'aria stessa cosa per i pezzi di fusione, non li ho montati tutti quanti perché non li ho tutti quanti però teoricamente più ne avete meglio è, quindi installateli se potete quindi nella messa a punto settiamo il nitro su 160 cavalli per 2.3 secondi poi la trasmissione finale invece ha 3.02 e gli pneumatici ha 36 di accelerazione e 64 di aderezza quindi andiamo a fare un giro di prova sul mezzo miglio ovviamente dove quest'auto è più sfruttabile, non che faccia schifo sul quarto di miglio però comunque va meglio sul mezzo miglio quindi io di solito parto nella zona verde, quindi in questo caso verso i 5500 giri poi perfect shift per prima, seconda e terza dopodiché in quarta, sempre perfect shift fino alla sesta dove poi arriviamo con una velocità massima finale di 377 km orari quindi adesso farò qualche gara dal vivo per farvi vedere le potenzialità di questo tuning grazie a tutti 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 Spero che questo tuning vi sia stato utile E ci vediamo al prossimo video